Con le elezioni degli otto componenti dell'ufficio di presidenza si è insediata il 15 dicembre la consulta giovani del Consiglio regionale. Strumento di conoscenza delle realtà giovanili, la consulta favorisce il raccordo tra le organizzazioni piemontesi e le istituzioni. Un ottimo momento per poter far avvicinare i giovani a quelle che sono le istituzioni e la consulta regionale dei giovani sicuramente è il miglior tipo di rappresentazione. Noi pensiamo che la consulta regionale dei giovani deve diventare un punto di riferimento per tutte le politiche giovanili del Piemonte e penso che la grande partecipazione di oggi con 85 associazioni di cui 22 nuove iscrizioni penso che sia un ottimo inizio per poter proseguire in questa direzione o meglio quindi far sì che il Piemonte possa essere rappresentato in un modo molto dignitoso da queste associazioni culturali.